Pane, malgacione, benvenuti a tutti voi e vediamo se il narcisista si può innamorare vediamo se il narcisista si può innamorare o non si innamora com'è questa storia del narcisista? si può innamorare o non c'è verso il narcisista non si innamora? mai prima di affrontare il tema metti un like, iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video, seguimi su tutti i canali youtube e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare ovviamente e cerchiamo di capire se il narcisista si innamora o non si innamora cerchiamo di capire questa cosa del narcisista se si innamora o se non si innamora e nel frattempo ti ricordo, salutiamo anche la nostra Rosy salutiamo Roxy Rosa, ti ricordo che ti puoi abbonare al canale e abbonarsi è facile, basta seguire diciamo basta cliccare sul tastino abbonati se vuoi fare una donazione puoi cliccare sul tastino super grazie allora, il narcisista si innamora se tu lo penalizzi analogicamente ovviamente innamorarsi, l'innamoramento non coincide o non è sovrapponibile all'amore spesso noi confondiamo l'innamoramento con l'amore per cui il narcisista si può innamorare non è semplice far innamorare un narcisista ma si può innamorare se tu utilizzi le strategie giuste hai possibilità di farli innamorare che non significa che il narcisista ti ami ma spesso anche per noi l'innamoramento è fondamentalmente una è fondamentalmente una una forma di attaccamento fondamentalmente perché quando noi siamo innamorati cioè quando la nostra parte logica viene sottomessa viene come dire destabilizzata dalla parte emotiva e questo non significa che la persona che siamo innamorati che amiamo significa che siamo stravolti uno tsunami ci ha colpito e praticamente ha come dire ha fatto sì che noi senza diciamo possibilità siamo bloccati in questa situazione l'innamoramento è uno tsunami e il narcisista è sensibile a quello tsunami quindi noi se vogliamo si agiamo salutiamo anche la nostra sissi si agiamo nel modo corretto possiamo mettere in atto delle strategie per fare proprio innamorare il narcisista abbiamo le possibilità di colpire il narcisista colpire la dimensione inconscia del narcisista e far sì che il narcisista si innamori ovviamente dobbiamo tenere presente che i narcisisti hanno un gioco e per far innamorare il narcisista siamo noi che dobbiamo condurre il gioco della seduzione e siamo noi che dobbiamo dargli delle penalizzazioni anche forti penalizzazioni a livello analogico a livello analogico non a livello logico bisogna mettere a fuoco una domanda essenziale però che è fondamentale per capire tutto perché tu invece ti coinvolgi ti innamori e arrivi ad amare il narcisista nonostante tu sappia che sia una persona negativa che sia una persona nefasta bene diciamo che le forme d'amore si differenziano da persona a persona le persone che in qualche modo si coinvolgono con figure come figure narcisiste e questo è soprattutto sono poi alla fine più le donne degli uomini salutiamo anche Damiano salutiamo anche Giussi Nicchi e Sissi Damiano è la prima volta che lo vedi in chat quindi benvenuta Damiano spero di vederti più spesso diventa un partecipante attivo delle nostre chat anche sul canale Massimo Terramasco ad esempio dove ci sarà la live alle 19.30 le donne hanno talvolta una dedizione maggiore probabilmente per il discorso della maternità hanno una dedizione maggiore e talvolta hanno anche uno spiccato senso del sacrificio questo non vuol dire che gli uomini non si innamorano però dobbiamo ammettere che le donne hanno come dire hanno una femminilità diversa il sentimento amoroso femminile proprio per bravo Damiano proprio per la maternità si dimostra talvolta in modo incondizionato no quindi e quindi le donne spesso prendono lucciole per lanterne però teniamo presente che in questo caso prendono veramente lucciole per lanterne e si coinvolgono proprio con le persone che sono peggiori no che sono proprio i narcisisti o comunque persone di questo genere e e quindi arrivano ad amare che differenza c'è tra l'innamoramento e l'amore quindi stuttiamo Antonio perché il narcisista abbiamo detto che si innamora e noi possiamo farlo innamorare penalizzandolo fortemente ma non ama qual è quindi questa differenza che si manifesta no perché è interessante è interessante capire che il narcisista si può innamorare se lo penalizziamo analogicamente ma non può amare perché l'amore è qualcosa di più dell'innamoramento è la presa di coscienza del sentimento che noi abbiamo cioè l'innamoramento avviene a livello analogico a livello emozionale quindi anche il narcisista nonostante i meccanismi di difesa noi tramite le penalizzazioni analogiche possiamo bypassare questi meccanismi di difesa e andare a somministrargli delle tensioni vedremo poi nel corso del video come fare ma il narcisista non arriverà mai alla presa di coscienza alla consapevolezza amo questa persona perché mi interessa questa persona perché sono sulla stessa lunghezza d'onda di questa persona perché ne condivido i valori ne condivido le cose perché la parte logica del narcisista è talmente presa diciamo o è talmente preda del narcisismo del blocco narcisistico che ha veramente delle grandi difficoltà a venire fuori diciamo da questo schema quindi il narcisista non potrà mai provare l'amore perché non potrà mai avere la coscienza dell'amore resta tutto bloccato resta tutto bloccato diciamo nella fase inconscia quindi anche noi talvolta ci innamoriamo di persone noi intendo persone non narcisiste ci innamoriamo di qualcuno che ci genera stati di sofferenza lo facciamo perché abbiamo l'incapacità di gestire le nostre emozioni se sei incapace di gestire le tue emozioni ti innamorerai proprio della persona sbagliata quindi manca il dialogo interiore quindi vedremo che noi dobbiamo sviluppare un dialogo interiore dobbiamo sviluppare delle caratteristiche importanti per uscire fuori da quest'illusione che i narcisisti sono in grado di crearti le illusioni che i narcisisti sono in grado sono in grado di crearti noi siamo consapevoli dobbiamo essere consapevoli di noi stessi più siamo consapevoli di noi stessi meno siamo manipolabili meno siamo meno abbiamo possibilità di innamorarci proprio della persona sbagliata ma torniamo al narcisista se una persona fosse interessata a far innamorare il narcisista cosa dovrebbe fare se una persona fosse intenzionata a far innamorare il narcisista ripeto l'unica valenza secondo me importante per far innamorare il narcisista è quella di capire le fragilità del narcisista per poi sganciarti perché spesso perché noi restiamo agganciati poi al narcisista noi ne parlo di noi delle persone che restano agganciate al narcisista perché lo idealizziamo salutiamo anche Renata perché noi lo idealizziamo perché noi lo idealizziamo ne dice la nostra Nick spero in questo chat non sia il mio narcisista ma ecco ma è sbagliato io quando leggo il mio narcisista mi incazzo mi incazzo come una bestia perché non è possibile che una persona dica il mio narcisista i narcisisti devi divertire dei coglioni non puoi chiamarlo il mio narcisista presuppone che tu lo vuoi conquistare e questa è la cosa peggiore perché come dicevo uno può decidere se ha avuto la libertà e non è più coinvolto salutiamo la nostra greenettina green apple può decidere di farlo innamorare ma semplicemente per vederne le fragilità e per distaccarsene totalmente l'obiettivo è distaccarsi dal narcisista è distaccarsi quindi l'indifferenza è che se quello è nella chat quello non è nella chat quello ascolta quello non ascolta quello sa chi sei quello non sa chi sei a te non te ne deve fregare una beata minchia non te ne deve assolutamente fregare una beata minchia perché se te ne frega qualcosa è colpa tua vuol dire che c'è ancora un attaccamento se te ne frega qualcosa vuol dire che c'è ancora un attaccamento e se c'è un attaccamento sei una poveraccia sei una disgraziata perché i manipolatori ti possono togliere la libertà e quindi se tu sei manipolata non sei libera e allora dobbiamo cercare invece di essere liberi il narcisista ti toglie il libero arbitrio il problema è quello che noi dovremmo se vogliamo giocare il gioco del narcisista potremmo farlo innamorare ma non al fine di instaurare una relazione al fine di vedere le sue fragilità e di dargli un vaffa e di dargli un vaffa forte un vaffa potente questo è un punto fondamentale questo è un punto molto importante è un punto fondamentale noi non possiamo diciamo per nessun modo non possiamo per nessun modo per nessun motivo credere che il narcisista ci possa amare perché questo sarebbe un grave errore l'innamoramento non c'entra niente con l'amore l'ho detto prima l'innamoramento e l'amore sono due pianeti diversi sono due film diversi una è una questione prevalentemente emozionale istintuale emozionale anzi neanche istintuale emozionale l'amore è una presa di coscienza è un'affinità elettiva è l'unione di anima è l'unione spirituale è l'unione anche di valori di tradizioni di cultura che è un qualcosa di completamente diverso quindi come facciamo a diciamo a far innamorare il narcisista attraverso la penalizzazione analogica la penalizzazione analogica è quel meccanismo che essendo analogico bypassa il meccanismo di difesa del narcisista lo bypassa lo supera e quindi il narcisista si trova in una condizione per cui non riesce più a gestire diciamo le sue emozioni le sue emozioni prenderanno il sopravvento ma devono essere emozioni penalizzanti perché il narcisista ha dei bisogni quindi noi penalizziamo analogicamente i suoi bisogni e questo è un punto fondamentale devi penalizzare i suoi bisogni tra l'altro se osservati i narcisisti ad esempio anche nell'abbraccio il narcisista lo riconoscete perché ha un abbraccio particolare poi un giorno farò magari darò alcune indicazioni anche perché bisognerebbe farlo vedere l'abbraccio del narcisista l'abbraccio dovrebbe essere rigenerante ma l'abbraccio del narcisista invece offre soltanto illusione offre l'illusione di poter realizzare il sogno dell'unione totale ma questo sogno tu non potrai mai e poi mai realizzarlo l'abbraccio è ovviamente un potente mezzo di comunicazione attraverso questo gesto possiamo comunicare alla persona chiamiamo diciamo delle emozioni che il narcisista non riesce a trasmetterti infatti l'abbraccio con il narcisista è un abbraccio particolare è un abbraccio freddo è un abbraccio algido è un abbraccio glaciale ma il narcisista ha un bisogno di amore cioè di essere amato il narcisista vive questa situazione particolare per cui lui ha bisogno di essere amato o lei perché quando parliamo di narcisisti usiamo sempre spesso il termine maschile però anche il termine femminile diciamo è uguale perché le narcisiste sono anche femmine ma salutiamo anche Dante e però il concetto di fondo è che il narcisista ha un morboso bisogno d'amore ha un morboso bisogno d'amore ha un morboso bisogno di possesso e questo è un punto fondamentale infatti spesso il narcisista ha metto in atto sempre questi le donne narcisiste spesso fanno questo gesto con i capelli cioè io non posso farlo vedere non avendo i capelli però si intrecciano si attorcire nei capelli questo gesto è il gesto del legame è un desiderio di morboso possesso è un desiderio di morboso possesso quindi il narcisista ha questo bisogno e quindi l'unico modo per fargli innamorare è penalizzare fortemente totalmente questo bisogno penalizzarlo vuol dire vuol dire che tu a parole gli devi dire che lo ami nei fatti devi dimostrargli che per te che lui per te è indifferente devi fargli credere che no fargli credere dimostrargli che per te è totalmente indifferente indifferente significa che non te ne frega niente questo significa indifferente significa che non te ne frega assolutamente niente e quindi questo è un punto molto importante da prendere in considerazione il narcisista tra l'altro è una persona che si basa sull'apparenza si basa fortemente sull'apparenza cioè trasforma il bisogno di apparire quasi in una fede perché il narcisista come dice il mito salutiamo Andre come dice il mito di Narciso il narcisista si è innamorato di se stesso almeno crede di essere innamorato di se stesso in realtà quando lui si crede di essere al centro dell'universo invece tu devi farlo sentire come un pianeta periferico di una galassia periferica in uno sputo di universo periferico questo è quello che devi far provare al narcisista attraverso la penalizzazione analogica devi farlo sentire in uno sputo di universo periferico di una galassia periferica di una diciamo di un pianeta periferico come d'altra parte la terra io credo che molte persone anche oggi abbiano questo questo geocentrismo no questo geocentrismo per cui qualcuno dice eh ma l'universo la terra no pensate al pianeta terra il pianeta terra è un pianeta alla periferia della galassia della via lattea e la via lattea è una galassia periferica e la via lattea è una galassia periferica di diciamo di 200 miliardi di galassie è una galassia periferica e queste 200 miliardi di galassie qualcuno dice che saranno sì e no il 5% dell'universo conoscibile quindi se noi pensiamo all'immensità no beh ci rendiamo conto che di quanto siamo insignificanti ma nello stesso tempo siamo anche significativi perché noi facciamo parte del tutto facciamo parte del cosmo siamo come la goccia pensate a una goccia del mare quanto è minoritaria rispetto al mare eppure quando la goccia del mare si dissolve nel mare questa metafora della goccia mi piace molto diventa il mare stesso non c'è più differenza la stessa goccia diventa il mare e noi quando ci dissolviamo se riusciamo a superare queste cose diventiamo l'universo stesso quindi comunque detto questo dobbiamo imparare a penalizzare analogicamente al narcisista partendo dal narcisista e del suo egoismo partiamo di una premessa diciamo che uno dei mali del mondo è proprio l'egoismo ego significa io io al centro ego centrico mettere l'io al centro me stesso al centro che è già una situazione strana quindi questa è una sua esigenza un'esigenza del narcisista che si manifesta in tutte le maniere quindi come fai a penalizzare il narcisista beh ad esempio dirgli delle frasi del tipo certo che sei proprio noioso certo è che sei proprio noioso ma guarda che quello che dici non è mica corretto ma guarda a me non importa niente di quello che mi dici non me ne frega assolutamente niente le cose che mi dici mi entrano da un orecchio e mi escono dall'altro orecchio ecco queste sono tutte frasi che se tu dici al narcisista lui lo penalizzi analogicamente ma poi questo è già anche una penalizzazione particolarmente logica però tu potresti farlo anche analogicamente no? analogicamente ad esempio non lo chiami non li telefoni non gli fai vedere che sei interessato te ne esci con altri vai a letto con altri uomini con altre donne frequenti anche altri quando lui ti dice ti chiede ci vediamo domani sera dici sì dai forse vediamo sì dai forse vediamo e poi lo mandi a fare in culo fondamentalmente ecco queste sono tutte situazioni che tu puoi utilizzare per la penalizzazione analogica ora quando inizia a penalizzare analogicamente in questo modo cosa succede? succede che il narcisista viene infranto un po' il meccanismo di difesa non ha più la possibilità di capire le cose che stanno succedendo si sente inutile si sente e sente di aver perso non perché gliel'hai detto ma proprio ipso facto proprio nei fatti sente di aver perso diciamo il controllo serve di aver perso il controllo e quindi il narcisista anche un amante gli amanti sono legati dal sentimento gli amanti si perdono l'uno nello sguardo dell'altra anche i corpi degli amanti come anime si uniscono si intrecciano si aggrovigliano e quindi tu devi far vedere che invece anche quando fai sesso se fai sesso con il narcisista o con la narcisista lo fai in modo senza provare empatia fosse anche tuo marito fosse anche salutiamo Fiammella forse anche il tuo fidanzato lo fai in modo freddo distaccato e questo è praticamente un qualcosa che lui perde il suo approvvigionamento emotivo perché al narcisista in realtà non è che gli interessa fare sesso per edonismo al narcisista gli interessa fare sesso esclusivamente per avere il controllo della situazione quindi nel momento in cui tu gli togli questa possibilità gli fai vivere un rapporto non più a colori gli fai vivere un rapporto in bianco e nero gli fai vivere una relazione in bianco e nero quindi il narcisista cadrà in un impasse non saprà gestire più questa dimensione tra virgolette amorosa perché purtroppo o per fortuna non o per fortuna non riesce più a cogliere quelle che sono diciamo le sue esigenze non riesce più a soddisfare le sue esigenze di approvvigionamento narcisistico e la potenza diciamo di questa fascinazione è molto forte tenderà a farlo o a farli innamorare per il fatto che tu praticamente diciamo gli dimostrerai mistero indifferenza non gli racconterai niente e quindi lui improvvisamente perderà le redini del controllo della tua vita non avrà più la possibilità di controllare e siccome l'approvvigionamento narcisistico l'approvvigionamento energetico di cui ha bisogno ha un fottuto bisogno passa attraverso l'approvvigionamento di energia quando lui perde questa possibilità resta praticamente completamente distaccato completamente alterato e quindi vai a infrangere il sogno del narcisista cioè il narcisista a quel punto lì ha un sogno infranto e questa è la vera chiave di volta per colpire il narcisista devi infrangere i suoi sogni perché due cose devi fare al narcisista comprimergli la libertà e infrangergli il sogno perché il narcisista soffre per libertà compressa e per sogni infranti perché l'aspirazione del narcisista è avere un controllo completo della propria vita amorosa della propria vita sentimentale affettiva in realtà si esprime la cosa a 360 gradi perché poi l'esigenza del narcisista è avere un controllo completo in ogni situazione della sua vita ma se tu interagisci con lui nella dimensione sentimentale affettiva è ovvio che quella sarà la dimensione che tu devi è ovvio che quella è la dimensione che tu devi prendere in considerazione quindi già che il narcisista diciamo vede nell'altro l'incarnazione idealizzata delle proprie aspirazioni e il desiderio del narcisista è semplicemente quello di toglierti energia quindi quando tu analogicamente lo penalizzerai mantenendo il mistero non raccontando di niente comparandolo analogicamente in modo fallimentare rispetto ad altre persone beh lui svilupperà quello che si può chiamare innamoramento e quindi inizierai tu a vedere le sue fragilità inizierai tu a vedere la sua fragile autostima che va in crisi perché la fragile autostima del narcisista si nutre di attenzioni che può ricevere da te se tu gli togli le attenzioni la sua fragile autostima la sua fragile autostima si diciamo si frantuma si frantuma come diciamo un una finestra di vetro si frantuma se colpita da un pugno d'acciaio un pugno d'acciaio frantuma diciamo una finestra di vetro e così il il narcisista l'autostima del narcisista si frantuma davanti all'indifferenza l'autostima del narcisista la fragile autostima del narcisista si frantuma davanti al mistero e quindi entra in uno stato di solitudine anche se avrà altre anche se avrà altri approvvigionamenti energetici il fatto che tu gli hai tolto lo fai entrare in uno stato di solitudine lo fai entrare in uno stato catatonico e quindi lui automaticamente per riprendersi diciamo per cercare di riprendersi il controllo della tua vita entrerà in crisi e svilupperà un legame svilupperà un legame che devi fare attenzione perché qua ho visto molte situazioni cascare male quando qualcuno pensa che finalmente si è innamorato di me si finalmente si è innamorato di te ma finalmente non significa che ti ami il fatto che sei innamorato non significa che ti ami significa che il suo giocattolino non è più disponibile significa che il suo giocattolino ha preso altre strade e per cui il suo bisogno di sicurezza diciamo che si traduce poi in esigenza di controllare di vigilare diventerà volersi aggrappare a te diventerà il volerti il volerti conquistare di nuovo il narcisista vivrà uno stato di profondo sconforto proverà un forte innamoramento nei tuoi confronti nel frattempo metti un like e fai una donazione al canale cliccando sul tastino con dollarino se ti piace oppure abbonati al canale tastina abbonati per usufruire dei grandi vantaggi degli abbonamenti e quindi queste sono le regole questa è la base diciamo che serve per diciamo scartare totalmente il narcisista è la base che serve per prendere in mano il controllo della situazione ovviamente per fare tutto questo per dargli questa indifferenza per fargli capire per dargli queste penalizzazioni analogiche soprattutto una grande penalizzazione che non tollera è proprio la comparazione fallimentare cioè compararlo in modo fallimentare rispetto ad altre persone farlo sentire come vuoto farlo sentire come scarno farlo sentire come inutile e sono tutte cose che ti daranno una grande chance ti farà diventerai diciamo tu l'ideale dell'io del narcisista diventerai tu l'ideale quindi i narcisisti siccome fondamentalmente poi hanno dei pensieri ossessivi sono un po' depressi dei depressi mancati si aggrapperà al desiderio di averti si aggrapperà al desiderio di volerti conquistare si aggrapperà al desiderio di poterti diciamo si aggrapperà al desiderio di poterti amare ma non ti amerà ma lui crederà per certi versi e quindi avrai la tua vittoria una volta che hai scoperto quindi questo fragile autostima del narcisista tu ti decoinvolgerai e tranquillamente potrai senza grandi problemi senza veramente grandi problemi potrai levartelo dalle palle potrai togliertelo dai coglioni finalmente e diventare una persona nuova diventare una persona libera diventare una persona che non ha più blocchi salutiamo la carampagnocca patrizia perotti potrai diventare una persona che che niente nessuno potrà più intaccare perché quando tu riesci a sviluppare dentro di te la capacità di tra virgolette non essere coinvolta dalle dinamiche del narcisista beh non sarai neanche più coinvolta da altre dinamiche no avrai compreso quelle che sono le tue possibilità avrai compreso quelle che sono le tue chance e diciamoci la verità niente nessuno ti potrà più ferire niente nessuno ti potrà più colpire avrai e potrai sviluppare una nuova ed eterna alleanza con te stessa una nuova ed eterna alleanza con la tua vita e questo ti farà sentire veramente veramente bene sentirai proprio una brezza fresca uscire dal tuo cervello la Kundalini che sale sale come una brezza fresca e arriva in cima al tuo cervello e potrai sentirla qua sopra dentro di te scorrere perché è qualcosa di estremamente diciamo è una un'estrema gioia diciamo riuscire a gestire questa situazione è veramente una gioia estrema che ti porterà veramente veramente dei profondi dei grandi benefici e potrai amarti finalmente ed essere amata finalmente bene bene metti un like iscriviti al canale attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video e fai una donazione nella